Ciao e bentornato su Impara DaVinci Resolve e bentornato nei tutorial dedicati all'audio e quindi a Fairlight. Oggi parleremo di ADR ossia sostituzione automatica di un dialogo. Vedremo come è possibile sostituire alcune porzioni di un dialogo con altre registrazioni effettuate in post produzione direttamente all'interno dell'interfaccia Fairlight di DaVinci Resolve. Ma prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti al canale e sulla campanella destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare. Quindi l'ADR all'interno di Fairlight. Oggi vediamo un tool automatico di Fairlight per la gestione in particolare dei dialoghi. Abbiamo già parlato di registrazione di voci fuori campo. Oggi vediamo invece una registrazione di voci fuori campo, ossia un voice over un po' più avanzato. Parliamo di sostituzione automatica del dialogo alias ADR e viene tirata in causa principalmente quando ho ad esempio un dialogo un po' disturbato, molto difficile da correggere, oppure quando voglio creare ad esempio una versione in multilingua dello stesso audio. Prendiamo questa clip presa durante uno dei corsi di ripresa video in esterna. E come possiamo notare l'audio è molto disturbato, non si capisce quasi quello che sto dicendo. Le soluzioni sono due. O mettermi lì con santa pazienza e cercare di tirare fuori un po' l'audio. E pulire un po' il rumore di fondo. Ma abbiamo già visto che le operazioni sono abbastanza complesse e non sempre con risultati garantiti. Una soluzione forse più comoda è andare a ricreare l'audio in studio e quindi andare a sostituire l'audio in presa diretta con un audio registrato successivamente. Quindi siccome lo speaker sono io mi è anche più facile effettuare questa registrazione. Anzi la faremo insieme oggi. Io però ho già fatto all'interno di Fairlight due operazioni. Ho messo di dei marcatori colorati per ogni frazione di dialogo che dovrei sostituire. Creare un marcatore molto semplice. L'abbiamo già visto diverse volte. Selezioni tutte le clip e premi lo shortcut M. Per muovermi tra un marcatore e l'altro devo premere shift e freccia in alto freccia in basso. Quindi mi sto spostando vedete su tutti i marcatori. Quindi ho tre sezioni questa questa e questa. Poi ho messo in traccia audio 2 un audio ambientale preso magari da una clip che avevamo registrato contestualmente alla registrazione principale dove c'è solamente il rumore ambientale. Infatti se attivo solamente la clip ambientale vedete ho solamente il rumore di fondo. Quindi il mio obiettivo è sostituire questa clip o meglio questi pezzetti con del dialogo registrato in post produzione cioè registrato ora. Quindi per fare questa operazione utilizzeremo la funzione automatica quindi di ADR. Ora la prima cosa da fare è creare una traccia aggiuntiva dove andremo a posizionare la nostra registrazione. Andiamo su dialog andiamo a fare add track e aggiungiamo una traccia stereo. Questa mi viene messa in fondo quindi la porto sopra andando a cliccare col tasto destro move track up e ancora una volta move track up. La mettiamo in prima posizione. Gli cambiamo nome cioè clicchiamo sopra il nome e scriviamo ADR e gli diamo un po' di spazio. Perfetto. Adesso andiamo ad accendere il pannello di ADR e lo troviamo in alto nella barra dei pannelli. Quindi accendiamo ADR e come possiamo notare questo è diviso in tre sezioni list record e setup. Il primo passo da fare è utilizzare il setup ed ecco che si apre tutta la configurazione con tutti i vari settaggi. Allora i primi settaggi sono quelli più importanti perché mi dà proprio la configurazione di dove e come collegare la registrazione che andrò ad effettuare. Il pre-roll è quanti secondi prima della partenza del mio dialogo io voglio far partire la mia registrazione. Supponiamo di farla partire due secondi prima scriviamo due secondi e quanti secondi dopo la faccio ultimare? Dopo il termine del dialogo supponiamo di farla terminare un secondo dopo. Potete scegliere i secondi che volete anche in funzione delle distanze che ci sono tra un dialogo e l'altro. La sorgente di registrazione cioè la scelta del microfono viene fatta dopo aver deciso la traccia di registrazione. Quindi andiamo a scegliere la traccia di registrazione che sarà ADR cioè io andrò a registrare su questa traccia qui. Adesso vedete che si attiva la possibilità di scegliere la sorgente di registrazione. Vado a scegliere il microfono che preferisco in questo caso usiamo questo. Viene già aperta l'anteprima del microfono sulla traccia ADR. Adesso vado a scegliere la traccia guida chiaramente la traccia di dialogo cioè sarà la guida sarà quella del dialogo perché sarà la traccia che andrò a sostituire poi con il mio ADR e poi gli vado a dare il nome della mia registrazione quindi posso scrivere ad esempio ADR1. Io ho fatto la mia prima configurazione vado ad aggiungere il mio carattere e quindi gli dico guarda che Andrea sono io è il primo personaggio che dovrà registrare su questa traccia qui. È chiaro che se avete tante voci potete creare tanti personaggi differenti a seconda di chi deve andare a registrare la traccia. Questo è un bip prima dell'in point qui sono previsti tre bip magari li diminuiamo e ne mettiamo uno solo con distanza di 25 frame quindi di un secondo l'uno dall'altro e con una durata di 40 millisecondi a una frequenza di 1000 Hz. Poi c'è un bip all'in point cioè da quando deve iniziare la registrazione. Questo ha la stessa durata dei bip precedenti ma con una frequenza un po' più alta e soprattutto con un livello un po' più alto quindi si sente un po' di più rispetto a quelli meno significativi. Poi c'è anche un contatore un count reverse da 3 a 0 lo lasciamo disattivato. Questa è l'on screen cue textile che è l'anteprima del testo che dovrò ripetere in fase di registrazione quindi questo ti dice qual è la formattazione del testo. Possiamo usare quello che ci pare ma adesso le lasciamo così in default. Poi abbiamo smart timeline. Questa mi permette di adattare la timeline in funzione della porzione di dialogo che sto registrando in quel momento. Adesso la attiviamo. Molto bene quindi lasciamo attivate solo queste per comodità. Ecco una volta che ho fatto il setup passo alla lista. La lista dei tagli cioè la lista delle porzioni di dialogo che dovrò registrare. La prima è questa quindi la fissiamo. Andiamo proprio all'inizio quindi al primo marcatore premo i poi vado al secondo marcatore cioè quello finale con shift più freccia in basso e premo o quindi fisso un i ne ho su questa porzione. Quando ho la i e la o selezionata vado a cliccare su new cue. Il personaggio che dovrà ripetere questa parte sono io quindi metto il mio nome. Adesso dovrò andare a inserire qui il testo che dovrò pronunciare. Quindi risoluzione video ed eventuale compressione. Quindi vado a scrivere risoluzione video ed eventuale compressione. Quindi vado su questo marcatore quindi sempre con shift e freccia in alto per tornare indietro. Questo è il nuovo i poi vado sul secondo marcatore premo o e vado a mettere un nuovo cue. Sempre lo stesso personaggio e qui vado a inserire il testo. Poi stessa cosa vado sull'ultima porzione quindi i e o che è l'ultimo frame un nuovo cue. E questa è l'ultima frase che dico attiviamo la visualizzazione dell'istogramma controviamo controlliamo esposizione a tempi diaframma ISO. Perfetto e andiamo su record. Come prima cosa andiamo a rimpicciolire un po' questa parte allarghiamo il monitor per vederlo il più grande possibile. Ok andiamo ad esempio a registrare la prima. Quindi andiamo sulla prima. Prima di iniziare a registrare andiamo a fare un po' di prove facciamo un rehearse cioè una prova. Quindi provo a parlare quindi rifaccio il rehearse risoluzione video ed eventuale compressione. Sto ascoltando l'audio del dialogo in cuffia per evitare un ritorno del microfono rifaccio un rehearse quindi lui partirà dal pre roll e finirà in post roll. Risoluzione video ed eventuale compressione. Perfetto quando sono pronto posso andare a registrare la mia traccia. Quindi cosa faccio? Vado ad attivare il record. Quindi premo rec risoluzione video ed eventuale compressione. ora vediamola un po' insieme anche all'ambient quindi la accendiamo con l'ambient. Facciamo il play e risoluzione video ed eventuale compressione. Se voglio riascoltare l'audio invece originale era questo. Vedete che c'è una differenza enorme. Quindi io potrei anche registrare più take rifacendo la stessa operazione quindi premendo record registrando un secondo take un terzo un quarto e un quinto. Questi take aggiuntivi vengono messi su dei livelli differenti all'interno della stessa traccia ma tutta questa parte la vedremo nella seconda sezione del tutorial dedicato all'ADR che pubblicherò sul canale lunedì prossimo sempre nei tutorial dedicati a Fairlight. Se hai delle domande sul settaggio e sulla registrazione di una cue in ADR all'interno della Fairlight page ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video e noi ci vediamo domani per il prossimo tutorial all'interno del canale.